comunità fisica 20 maggio 1756 isole baleari guerra dei sette anni 1756 1763 la battaglia delle baleari avvenne tra la flotta francese e quella inglese gli inglesi guidati dal vice ammiraglio bain si presentarono con l'avanguardia che aveva un anticipo di circa mezz'ora rispetto all'arresto della flotta grazie a questo errore i francesi avrebbero vinto facilmente bain convocò un breve consiglio di guerra sulla tolda dell'ammiraglia e decise di desistere dall'impresa di liberare minorca l'isola più piccola delle baleari l'abbandono provocò una tale indignazione che al rientro in patria il vice ammiraglio fu arrestato e fucilato per alto tradimento commento e pensare che per la legge i popoli inglese e francese hanno dei codici così affini da appartenere con altri popoli alla stessa comunità fisica